Carabinieri e personale dell'ASP di Trapani hanno sequestrato il rifugio per cani di Valderice dove vengono ospitati i randaggi accalappiati. Da un controllo infatti la struttura comunale è risultata sovraffollata. Il blitz è scattato questa mattina. Sulla vicenda è intervenuto l'animalista Enrico Rizzi che chiede le dimissioni del sindaco Spezia. Già nel corso della fiaccolata di domenica sera, per ricordare Osvaldo, il cane ucciso abbastonato a Valderice, Rizzi aveva criticato l'operato dell'amministrazione parlando di omissioni in tema di randaggismo, accuse alle quali aveva risposto il primo cittadino esaltando il rifugio per cani ed annunciando la realizzazione di un nuovo canile. Ieri mattina però il blitz culminato nel sequestro della struttura comunale.